Ivan Mariana e sua moglie Maura Cavada sono stati ufficialmente introdotti come i nuovi priori della festa di San Francesco di Lula per l'anno 2024-2025, prendendo il posto di Antonio Monne e Maria Suntafalchi. La loro nomina era stata effettuata dal Vescovo della Diocesi di Nuoro, Monsignor Antonello Mura, lo scorso 12 marzo. La cerimonia si è svolta con una processione partita dalla Chiesa del Rosario e conclusasi al Santuario di San Francesco, sentuato ai piedi del Montalbo. Durante la processione i nuovi priori sono stati accompagnati dai cavalieri, simbolo di onore e tradizione. Al Santuario hanno ricevuto la teca contenente la statua di San Francesco, simbolo del loro nuovo ruolo. Durante la cerimonia hanno eseguito i tre giri rituali attorno alla Chiesa, seguiti da una messa di ringraziamento ufficiata dal parroco di Lula, Don Antonio Cossedu. Un momento suggestivo intenso che rafforza le radici culturali e spirituali della celebrazione, sottolineando il valore della tradizione e del rinnovamento nella vita della comunità.